Sendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Cristiano Piccini la mette in mezzo. Palla giocata alta sulla fascia. Berardi la butta in mezzo. Ci prova il volo. Si salvano con la traversa. Cerca la soluzione aria. E c'è il gol dello Sporting. Eccolo il gol, davvero rapinatore d'aria. Grandissimo attaccante di quelli che intuiscono prima. Può colpire. Hanno trovato il gol! Gli ha ostruito la visuale. Guardate come la palla si infila nel barco. Grazie. Grazie.